La scuola di alpinismo del Corpo Guide di Alagna fa parte di una tra le più antiche società di guide delle Alpi, è nata nel 1872. La scuola di alpinismo del Corpo Guide di Alpi, è nata nel 1872. Questa estate, oltre ai classici programmi che si svolgono in quota sul nostro Monte Rosa, abbiamo sviluppato attività per tutti, per famiglie, per ragazzi, e dopo tutto il periodo di isolamento davanti ai libri e agli schermi, un po' di natura e di sbaglio secondo me. Quest'anno abbiamo ampliato tutti i nostri programmi, con degli itinerari meno noti, ma anche tanti interessanti. Con tutto il gruppo delle guide della scuola, vi aspettiamo ad Alagna per una vacanza sana e indimenticabile. Vi aspettiamo numerosi!